buongiorno pasticceria al volo tip and tricks è giusto ok buongiorno altro episodio di pasticceria al volo tip and tricks oggi facciamo una decorazione che mi chiedono spesso che è super semplice ma bisogna capire come fare e il timbro con la cera lacca applicato al cioccolato quindi sostanzialmente esattamente come prendere la cera lacca e andare a fare la forma del timbro con non mi viene altro trucchetto con il cioccolato una decorazione molto semplice ma molto utile buongiorno a tutti pasticceria al volo tip and tricks no no no